E raga non so più cosa spaccare, non so più cosa spaccare, cioè guardate, guardate Diretta abbiamo spaccato le Pringles E adesso le spacchiamo ancora più perché io voglio Allora no, partiamo da presupposto, voi sfottete me no? Perché ormai il calcio è diventato una giungla di offese personali, di qui di là Però io mi voglio mettere davanti a una cosa Voi offendete me che non gioco a pallone, cioè gioco a pallone, evidentemente non nel Milan Voi sfottete me perché io anni fa ho scelto una squadra, di rifare una squadra che comunque era vincente E che si è mangiata da sola Io Che colpa ho? Se tifo una squadra di pezzenti, di teste di cazzo, di giocatori di merda, di ingrati, di avidi, di figli di puttana Che colpa ho? Spiegatemi che colpa ho così magari poi rivedo un po' i miei piani Sfottete chi va in campo Ma neanche Perché chi va in campo si sfotte da solo E vi dirò di più La patina deve ancora finire Perché siamo all'ottantesimo E io sto già a fare il video Sono già qui che faccio il video Qualsiasi cosa succeda non è più di mia competenza Adesso ci attendono due settimane di riposo Dove il gioco del calcio Per me non è mai esistito Perché in queste due settimane Il gioco del calcio Non è mai esistito Come non è mai esistito Dopo che io pubblico il video di reaction Perché è questo Io ringrazio chi mi ha scritto su Instagram Chiedendomi Adri perché non fai le reaction alle partite della nazionale? Cioè meritate davvero che faccia le reaction alle partite della nazionale? Io devo sprecare le mie energie Che già le spreco per una squadra Che ha vinto un campionato E non è Non gli è neanche stato chiesto di rivincerlo Perché non gli è mai stato richiesto Gli è stato solo chiesto di onorarlo Di portarlo in alto Di dire almeno ci abbiamo provato L'Inter l'anno scorso L'hanno orato il campionato Perché fino a un fondo poteva vincere L'hanno orato almeno Il Milan ha avuto più cool È stato più forte Tutto quello che vi pare Perché tanto se andiamo a dire che ce lo siamo meritati Non ci credete E' andata diversamente Il Milan manco ci prova Manco ci prova Io devo andare a fare la reaction di una squadra Che ha vinto un europeo E non è andata al mondiale Quindi devo spaccarmi In coglione ancora di più No grazie No grazie La partita di stasera Domani vedete la reaction Alle 7 di mattina Che uscirà Come sempre Come sempre Io ho buttato via il mese di marzo A guardare voi Io ho buttato via il mese di marzo Che è finito senza neanche una vittoria Perché il mese di marzo del Milan è stato 1-2 con la Fiorentina 0-0 con il Tottenham 1-1 con la Sernitana E il risultato di Udine Questo è stato Il mese di marzo 2023 del Milan Dove Il 4 marzo E il 18 marzo Due sabati sera golosi Gli ho sprecati Stando in casa A fare le reaction A questa squadra di ingrati Questo è stato il mese di marzo del Milan Questo qui E voi Società di merda Di ipocriti Società di ipocriti Che siete in chiara difficoltà Non mettete mano al mercato Non mettete mano alle altre Non mettete mano a un cazzo Per voi è sempre domenica Per voi è sempre domenica Ogni giorno Ogni giorno Il sole splende sul Milanello per voi Noi ci siamo ancora di più rotti coglioni E voi continuate Imperterriti Su quella strada Voi ci state prendendo Per il culo Ci state prendendo Per il culo La società Ci sta prendendo per il culo Certo Perché? Perché Per tutto il mese di gennaio Mettiamo mano a sta squadra Manca un portale di riserva Manca una alla destra Manca un attaccante La squadra è a posto così Tanna La partita con la Roma Tanna La partita con l'Ege Tanna la Supercoppa Tanna Lazio Tanna nel Sassuolo Una serie di disgrazie Dopo la serie di disgrazie Allora la squadra è a posto Allora ti prendi per il culo da solo Perché ti prendi per il culo da solo Non contenti Non contenti La cosa va avanti E il giocatore in campo Con i pezzi di merda in campo E poi c'è neanche per l'allenatore Signor Raffaele Au Hai fatto i primi due anni di Milan da cani Da cani E io ci ho massacrato giustamente Ma non ero stato l'unico a massacrarti Tanto che è stato il 2021 Mi ricordo che tu eri sul mercato E ne sono da comprato L'anno scorso mi fa ricredere su di te Tanto che sei stato il miglior giocatore della serie A E io ti ho pubblicamente chiesto scusa Quest'anno hai fatto una prima parte del campionato Così cosa? E ciccio! Io ci metto tre secondi Tre secondi a ripristinarti come prima Tre secondi ci metto Tre Tre di numero Sette milioni l'anno Sette metri e mezzo di porta Lui non è capace di cogliere la porta più Già che non la passa Già che non salta l'uomo Già che non fa un cazzo Non è capace manco di cogliere Sette fottuti metri e mezzo di porta Un milione di euro a metro di porta E lui non l'accoglie Per poi Parla della difesa E dell'allenatore E anche dell'allenatore Perché dopo una serie di figure di merda Così anche l'allenatore va messo sul banco degli imputati Perché ci va messo anche lui Pioli hai risolvato una squadra? Hai vinto uno scudetto? Grazie Ma di questo Noi non abbiamo bisogno Cioè se questo è il prezzo Da pagare Per aver vinto uno scudetto Ne faccio un guai Rido allo scudetto indietro Perché do allo scudetto indietro se devo vedere questo? Se ogni fine settimana mi devo sentire male Ogni fine settimana è un urlo Uno spaccare oggetti Un mettersi ridicolo davanti a tutti Ogni fine settimana Cioè se è il prezzo da pagare Signor Pioli evita Evita Volete analisi la partita? La faccio brevemente Dopo 4 minuti in live mi ero già rotto il cazzo Perché dopo 4 minuti Ho detto ragazzi Questa partita va a finire male Detto fatto Primo gollo Tomori perde palla Perde palla Non si sa come Perché è un altro coglione Lasciano due che tirano liberi 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 in mezzo all'aria Pareggi Con un rigore che ti fanno ripetere Perché tu ovviamente non sei Cioè Gianmina prima di fare un gol E devi sbagliare 80 Ti danno un rigore Lo segni quando te lo fanno ripetere Perché non sei buono di segnalare la prima Devi aspettare Devi contare i secondi Perché si vada All'intervallo E prendi un altro gol Cioè io spero che voi lo facciate apposta Cioè ditemi Lo stiamo facendo apposta Il gioco del calcio A un copione Che io sto più tranquillo Ditemelo così Io sto Mi metto l'animo in pace Cioè perché quest'anno Di figure di merda ragazzi Ne abbiamo la pancia piena E la Roma Che in cinque minuti Ti fa due gol Ti ripetono una partita Che non aveva manco giocato I cinque gol Da Sassuolo La Supercoppa Dove neanche Si è sceso in campo La Salernitana Che fa tre tiri E ti pareggia la partita Esci Col Torino Dopo 36 tiri in Coppa Italia Stasera pure Pareggi E sul recupero Del recupero Prendi gol Ditemi che c'è un copione dietro Perché se no Voi non siete adatti A fare questo sport Non siete adatti Non è cosa vostra Il secondo tempo Il gol del 3 a 1 È per me Totalmente irregolare Ma il problema È che è il gol del 3 a 1 Quindi regolare o meno Siete delle teste di cazzo Comunque E ci si vedo domattina Ciao